Speciale TGT dedicato all'attività dell'organo legislativo regionale ben trovati. Al centro dell'ultima seduta del Consiglio regionale della Toscana dopo un lungo dibattito l'approvazione della legge che semplifica l'iter burocratico per l'approvazione delle varianti e gli strumenti di pianificazione per il cosiddetto PNRR. Vediamo i particolari. È stata approvata a maggioranza la legge che introduce nella normativa regionale una disciplina speciale a termine necessaria per favorire la piena realizzazione delle opere pubbliche finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Fondo Complementare. Siamo assolutamente favorevoli a semplificare i passaggi burocratici per rendere operativi i fondi del PNRR perché è bene che i cittadini sappiano che fino ad oggi molto si è discusso, tanti progetti, tante idee sono state presentate ma poi quelle idee, quei progetti vanno come si dice calati sul territorio. Per farlo bisogna rispettare le norme. Ebbene la regione toscana negli ultimi vent'anni ci ha abituato a caricare di norme, di passaggi burocratici, di piani, contropiani, verifiche tutti i passaggi e tutte le singole opere edilizie. Basti pensare a quello che deve fare un povero cristiano per spostare una finestra di 50 cm in regime di vincolo paesaggistico. Poi ad un tratto si sono resi conto che non sono in grado di gestire questa congeria enorme di norme e quindi vogliono sostanzialmente spazzare via il passaggio dei consigli comunali laddove la realizzazione di questi progetti comporti variante alla pianificazione urbanistica. Un passaggio importante che semplifica le opere pubbliche dei comuni soprattutto quelle finanziate dal PNRR. Le opere che devono essere realizzate in tempi celi devono avere un procedimento veloce e semplificato via la burocrazia. Si arriva a fare finalmente una legge che tanti sindaci hanno chiesto, tanti comuni, tanti enti per fare delle opere pubbliche importanti per la Toscana. Ovviamente noi chiediamo di fare di più, di eliminare anche le conferenze di copianificazione non soltanto per le opere del PNRR ma per tutte le opere della nostra regione quando anche a livello nazionale ci siamo mossi noi per fare il piano shock delle opere pubbliche sono arrivati i commissari, le opere sono partite. Questa è la politica che Italia Viva ha sempre fatto, è il motivo per il quale noi con forza votiamo questa legge e consolidiamo la maggioranza, fa piacere che anche altri partiti del centrodestra ci vengano vicino a questa posizione e abbiamo trovato una netta distanza con i Cinque Stelle e questo certifica fondamentalmente una distanza netta di politiche rispetto a quello che a livello nazionale dovrebbe essere un partito che in realtà sostiene il governo Draghi. Noi siamo coerenti a livello di Roma, a livello di Toscana, vogliamo il PNRR, vogliamo gli investimenti, vogliamo velocizzarli ma soprattutto vogliamo fare sviluppo della Toscana, creare ricchezza e arrivare a ridistribuirla. Noi abbiamo promosso questa legge con l'intento di ridurre i tempi, di semplificare le procedure laddove occorre una variante urbanistica, non si tratta di nessuno stravolgimento, sarà una legge limitata nel tempo collegata al PNRR e limitata negli effetti perché sarà limitata alle opere finanziate con questo strumento che rappresenta, lo ricordiamo, un'occasione per la Toscana e l'interesse di tutti noi, della Toscana, è quello di portare tante risorse e investimenti del PNRR nella nostra regione e far sì che questi si trasformino in opere rapidamente e nei tempi imposti dall'Unione Europea. La regione toscana partiva avvantaggiata per quanto riguarda lo spenderli bene grazie alla legge Marson, la legge 65 del 2014 che garantiva un'urbanizzazione, una gestione e tutela della qualità del paesaggio e dell'urbanistica ottimali. Era una legge faro per tutte le regioni d'Italia, ma in questi otto anni la maggioranza che è stata al governo e che ha voluto quella legge non è stata in grado o non ha voluto finanziarla dal punto di vista economico e delle risorse umane per arrivare oggi col PNRR appunto a dover riconoscere di non avere le risorse, gli strumenti per poter intercettare presto questi soldi. E quindi a cosa si ricorre? A un escamotage. Si dice che si superano transitoriamente le regole, la normativa che era stata prevista per far sì che possano essere fatte queste opere. Quello che ci preoccupa è che alcune decisioni e alcune modifiche alla normativa urbanistica regionale come questa proposta di legge che abbiamo discusso oggi in aula è un problema di tipo diverso perché pone un'attenzione che deve essere rivolta ai territori e in particolare noi abbiamo preso posizione per quello che riguarda le amministrazioni comunali. Noi non vogliamo che le decisioni che devono essere presi su alcuni progetti importanti passino sopra la testa dei territori e delle amministrazioni comunali. Quindi chiediamo che i consigli comunali siano parte attiva e integrata di quei procedimenti complessi che purtroppo una normativa urbanistica regionale come quella che abbiamo noi pongono in essere in maniera molto rilevante. La legge è passata con 24 voti a favore i gruppi della maggioranza e due gruppi dell'opposizione, due i consiglieri di opposizione contrari, nove i consiglieri di opposizione che non hanno espresso voto. Approvati anche alcuni emendamenti della maggioranza e di un gruppo delle opposizioni, respinti invece gli altri emendamenti delle opposizioni. La disciplina semplifica la procedura per l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche finanziate con le risorse del PNRR e del Fondo Complementare, prevedendo il via libera della conferenza dei servizi e la successiva presa d'atto da parte del Consiglio Comunale. Quale procedura di variante agli strumenti urbanistici, quando questa risulti necessaria alla realizzazione delle opere ed escludendo la localizzazione delle singole opere dalla valutazione ambientale strategica. Al vaglio dell'Aula di Palazzo del Pegaso, anche il bilancio preventivo economico dell'anno 2022 dell'IRPET, l'Istituto Regionale di Previsione Economica. Via libera da parte del Consiglio regionale al bilancio preventivo ed economico per l'anno 2022, il programma di attività per l'anno 2022 e il programma triennale di attività 2022-2024 dell'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana. L'atto è stato illustrato in Aula dal Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani. IRPET è un ente estremamente prezioso, sia per la Giunta regionale che per il Consiglio regionale della Toscana, in quanto svolge un'attività di ricerca e un'attività di consulenza per la Regione che è particolarmente delicata e incisiva in alcuni settori strategici di governo del territorio. Le entrate di IRPET sono dovute soprattutto a un contributo ordinario che viene dalla Regione, un contributo consistente, al quale poi si affiancano diverse centinaia di migliaia di euro che derivano dalle risorse dei fondi regionali, dei fondi nazionali e soprattutto dei fondi europei. La proposta di delibera è stata approvata dall'Aula a maggioranza con 22 voti favorevoli, 11 contrari, 2 astenuti. IRPET, proprio perché la sua denominazione a caratterizzarlo, può svolgere nell'ambito di tutto quel sistema di società ma anche di istituti un ruolo strategico nel momento in cui andiamo a fare un'attività di programmazione. La scelta è rilanciamo questo istituto oppure ci soffermiamo al mero dato contabile. Noi siamo convinti che oggi questo istituto possa avere ancora un ruolo strategico ed importante. La fotografia di quello che sta succedendo non c'è bisogno che ce la faccia IRPET. Basta andare a giro, basta ascoltare i cittadini, basta andare a comprare il pane e capire che oggi il pane costa 4,10 euro, il latte costa 1,15 euro, fare la benzina costa più di 2 euro, che una semplice cofanettino di fragole costa 5 euro. Basta andare a giro e parlare con le persone per capire che la bolletta della luce costa il doppio rispetto a tre mesi fa e che la bolletta del gas addirittura nelle aziende è triplicata. Basta andare a giro e parlare con le persone. Non importa la fotografia di IRPET e non importa mettere 2.780.000 euro della regione toscana per sapere questo. Ci sono diverse zone d'ombra per quanto riguarda IRPET, ma soprattutto direi la giunta regionale. Si è approvato il bilancio di previsione 2022, ma non quello pluriannale 2023-2024, perché di fatto manca il parere del collegio dei revisori. Quello che noi notiamo è che vi è un vizio di legittimità a riguardo, proprio perché come dicono i sindaci e i revisori, manca la delibera di assegnazione delle risorse da parte della giunta. Quindi il Consiglio regionale ha votato l'atto riguardante IRPET, ma con questi rilievi che sono stati fatti appunto dal collegio dei revisori, ma anche dalla direzione tecnica. Il Consiglio regionale si è concentrato anche sui giovani. A loro è destinato una cifra che riguarda la rigenerazione toscana, da un milione e mezzo di euro per rilanciare questa fetta di popolazione all'indomani della pandemia. Dopo più di due anni di pandemia, il Consiglio regionale della Toscana interviene con 1.750.000 euro derivanti dall'avanzo di bilancio per sostenere ai giovani la fascia d'età che più ha sofferto per la mancanza di socialità. È nato per questo il bando Rigenerazione Toscana. Abbiamo deciso di individuare Rigenerazione Toscana come momento di ripartenza rivolto ai più giovani, quindi rigenerazione culturale, penso alla street art, rigenerazione sociale, con spazi anche autogestiti di aggregazione giovanile, oppure rigenerazione inclusiva, con i parchi gioco inclusivi rivolte alle ragazze e ai ragazzi più giovani, o quella che io chiamo rigenerazione musicale per far ripartire eventi nelle nostre città. Il bando è stato individuato come un momento di ripartenza. Il provvedimento è dedicato ai comuni che con i sindaci e le amministrazioni comunali hanno l'opportunità di pensare a iniziative di promozione socio-culturali rivolte alle giovani generazioni. Il bando, che scade il 16 maggio prossimo, si articola in quattro sezioni e ogni comune può chiedere su una sola di esse il contributo massimo di 15.000 euro. I comuni dovranno garantire una compartecipazione non inferiore al 20% del totale. L'idea nasce da provare a mettere insieme i ragazzi, i giovani e soprattutto nei comuni, le associazioni, provare a trovare degli spazi, dei luoghi di aggregazione. Questo è il punto che a me particolarmente sta a cuore. Quindi la possibilità per molte persone di ritrovare anche a livelli di socialità, dove la pandemia aveva un po' allentato queste relazioni. Ovviamente altri progetti che poi possono riguardare anche l'arte di strada, possono riguardare ovviamente la produzione di festival, di concerti, di iniziative, la riqualificazione del verde, qualsiasi progetto che consenta alle persone di stare insieme con altre persone. 1.750.000 euro destinati ai comuni per scopi di promozione sociale, culturale, di aggregazione, la street art, l'identità, il tema dei parchi giochi inclusivi per i ragazzi e i bambini diversamente abili. Un'attenzione speciale da parte del Consiglio regionale verso le nuove generazioni, così come è previsto dallo stesso articolo 3 dello Statuto, perché vi è proprio questa menzione della salvaguardia e della promozione della vita delle generazioni in future. E quindi questo è veramente quello che abbiamo fatto tutti insieme, perché ricordo che la stessa legge regionale è stata approvata praticamente da tutti i gruppi consigliari e questo è un bel segnale che diamo verso l'esterno, che il Palazzo del Pegaso offre ai cittadini toscani. Largo consenso invece per il progetto che riguarda le ferrociclovie. Ferrociclovie, i particolari. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato a maggioranza, registrando 26 voti a favore e 5 astenuti, la proposta di deliberazione che prevede l'adozione del progetto di paesaggio denominato Ferrociclovie della Val d'Orcia, dei Colli e delle Crete Senesi. Il progetto di paesaggio è uno strumento previsto dalla disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con l'obiettivo di incentivare la qualificazione e la valorizzazione dei paesaggi regionali. Questo interessa il territorio dei comuni di Siena, Asciano, Trequanda, Civitella Paganico, Roccastrada, Castiglione d'Orcia, Sinalunga e un altro comune del Senese. La finalità principale è quella di fare della ferrociclovia della Val d'Orcia, oltre che costituire un'occasione di valorizzazione di una mobilità lenta per una migliore fruizione del territorio, anche ai fini turistici, un punto di riferimento per un sistema integrato di percorrenze che connetta la Val d'Orcia e il territorio amiatino alle colline di Siena e alle Crete Senesi e più oltre alla Val di Chiana e al Grossetano. Come Fratelli Italia abbiamo apprezzato la proposta del Partito Democratico di integrare la normativa relativa alle piste ciclabili, più in generale alla mobilità sostenibile. Con alcune osservazioni ci hanno portato poi all'astenzione al momento del voto. In particolare l'introduzione del piano regionale per la mobilità ciclistica, un ulteriore piano che in qualche modo non semplifica, ma anzi rende più complessa la realizzazione di queste opere, anche perché deve nascere in conseguenza dei piani urbani della mobilità sostenibile e soprattutto dei cosiddetti ciclo plan, cioè dei piani che a livello locale dovranno essere realizzati per la mobilità ciclistica. Abbiamo anche tentato insieme ai colleghi della Lega di introdurre una maggiore attenzione sugli impianti sportivi per dare organicità agli interventi e per mettere in connessione fra loro anche gli impianti sportivi attraverso la mobilità dolce. Proposte sono state bocciate, pur prese in considerazione dalla maggioranza, dicendo che saranno oggetto di un approfondimento ulteriore. Infine abbiamo posto la questione sul mobility manager, che dovrebbe essere quella figura che coordina gli interventi e che quindi lega insieme il piano regionale con i piani locali e abbiamo proposto sia naturalmente o il direttore della direzione sulla mobilità già assunto in Regione Toscana o comunque un funzionario o un dipendente, mentre in realtà la maggioranza ha voluto lasciare aperta la porta anche a possibili consulenze esterne e secondo noi in questo momento sarebbero da evitare. Innanzitutto sono orgoglioso che il Consiglio regionale l'abbia votato così velocemente, ringrazio la Presidente De Robertis, tutta la quarta commissione per il lavoro svolto. Lavorare nel sostenere progetti di mobilità sostenibile, lavorare perché da un lato la Giunta finanzi più piste ciclabili nella nostra regione, noi siamo la prima ad aver finanziato la ciclopista del Tirreno e la ciclopista dell'Arno, un modo per connettere a T la nostra regione in bicicletta. Investire sulla bicicletta, investire sulla mobilità sostenibile vuol dire investire in turismo, investire in una cultura differente e anche questo è il modo con cui noi dobbiamo guardare con speranza e ottimismo verso il futuro. La Toscana deve porsi l'obiettivo di essere la regione più sostenibile d'Europa e per perseguire questo obiettivo deve lavorare anche in direzioni come quella che abbiamo appena approvato oggi. È logico che siamo a favore, però all'interno di questa modifica di questa legge abbiamo portato degli emendamenti, due dei quali sono stati accolti, quello di inserire l'attività anche sportiva all'interno di questa proposta di legge e la sicurezza per i ciclisti. Però cercavamo anche di allargare il discorso anche alle attività sportive, visto che loro hanno approvato all'interno di questo emendamento e cercare anche di dare una definizione ben precisa per quello che dovranno essere gli impianti anche per l'attività sportiva ciclistica. Perché ad oggi, ad esempio, gli amanti del ciclocross, della mountain bike, delle BMX, sono tutte persone che hanno l'esigenza anche di sviluppare la loro attività. Noi chiedevamo in questo programma triennale di poterlo inserire, non di attuarlo immediatamente, ma comunque di inserirlo in un contesto che ritenevamo opportuno. Ed è tutto per questa edizione del nostro speciale TGT. Grazie per averci seguito, all'appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti.